Eccoci qua, sempre a St. Moritz, questa volta con lo sprint più assassino del mezzofondo italiano, detto anche Stefano Larosa. Come stai? Ma sto abbastanza bene, stiamo facendo un periodo di preparazione qui a St. Moritz, io mi sono aggregato con i maratoneti anche se ancora faccio la pista e agli europei di Zurigo farò il 10.000. È un bel gruppo, facciamo fatica tutti insieme e quindi senti meno anche la fatica e ci stiamo allenando molto bene. Anche uno abituato ai ritmi velocissimi come te quindi fa un pensierino alla maratona? Ma diciamo che per ora mi sto concentrando per i 10.000, ovvio che faccio diversi chilometri perché anche un 10.000 devi fare una bella base, faccio i ritmi in pista e corro con i maratoneti. Vediamo, dopo Zurigo ci sta che farò un pensierino anch'io alla maratona. Allora concentriamoci su Zurigo, dicono le solite fonti ben informate, se è gara tattica con Larosa non ce n'è quasi per nessuno. Io ho un buon finale, quindi mi giocherò le mie carte sicuramente se la gara è tattica. Bisogna stare un po' attenti ai turchi che hanno dei ragazzi naturalizzati che sono keniani e se la metteranno giù dall'inizio a un ritmo molto forte dovremo cercare di stare attaccati il più possibile con loro. Se la gara è tattica io aspetterò e mi giocherò le mie carte nel finale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.